buongiorno buongiorno buon giovedì buon giovedì 25 marzo benvenuti benvenuti a mattino insieme c'è grande attesa per le nuove colorazioni delle regioni che come sapete si sapranno tra oggi e domani c'è grande attesa anche per il trentino e per l'alto adige questo giovedì mattina abbiamo ospite in studio augusto goio giornalista di vita trentina buongiorno augusto buongiorno buongiorno a te ai telespettatori come già sapete il giovedì mattina vi offriamo alcune considerazioni proprio su vita trentina prendiamo alcuni spunti dal settimanale diocesano l'apertura è dedicata alla scuola questa settimana e il titolo che viene proposto adesso possiamo vedere è proprio riaprite le scuole salta il banco c'è questo cartello adesso magari lo scorriamo vita trentina con scritto proprio riaprite le scuole questo appello no si prendo spunto proprio dalle parole che appena pronunciato sono in attesa anche nel mondo della scuola di capire se ci sarà un cambio di colorazione in trentino probabilmente si saprà più certamente venerdì appunto perché c'è un desiderio di tornare sui banchi è un titolo un po frizzantino che abbiamo voluto dare anche per in qualche modo sdrammatizzare una situazione che invece molto seria e anche per dare un tono che faccia capire anche la preoccupazione abbiamo scritto nel sommario di copertina la insofferenza che molte famiglie genitori gli stessi ragazzi e ragazze bambini e bambine provano nei confronti della didattica a distanza che ormai da un anno in qualche modo ha salvato per quello che era possibile una generazione ma ricordiamo anche le parole in più occasioni pronunciate da Papa Francesco proprio per questa generazione che si rischia di perdere per questa scuola a distanza che non favorisce certamente la relazione il contatto di cui i nostri ragazzi ragazzano così bisogno e in questo articolo di apertura due pagine curate dal nostro direttore Diego Andreatta riprendiamo le parole di un forum che abbiamo trasmesso in diretta sulla nostra pagina facebook lunedì 22 con quattro dirigenti scolastici di altrettante scuole paritarie la scuola istituto sacro cuore la sacra famiglia l'arcivescovile e il centro moda canossiane sicuramente c'è una grande insofferenza da parte dei genitori abbiamo visto proteste lo scorso fine settimana il fine settimana precedente insomma c'è ormai una sopportazione che forse è arrivata quasi al limite possiamo dire certamente abbiamo richiamato anche noi in queste due pagine la manifestazione che si è svolta domenica a Rovereto ce ne sono svolte anche in primiera o ce ne sarà una a Trento nei prossimi giorni è un segnale di un desiderio di tornare a scuola perché si capisce l'importanza come diciamo prima della presenza ci piacciono le parole di questi quattro dirigenti Paolo Fedrigotti usa un'immagine quella dell'ancora la scuola come un'ancora per i ragazzi e le ragazze e le famiglie Alberto Ventroni del Sacro Cuore parla della scuola come di una casa una casa accogliente poi c'è l'immagine di Suor Daniela Rizzardi del centro moda canossiane che parla di una scalata da affrontare però anche con il desiderio di arrivare in vetta questa difficoltà e ancora abbiamo questi quattro pensieri che ci richiamano all'importanza della scuola come ambiente educativo che in alleanza stretta con le famiglie ci aiuta a far crescere i nostri ragazzi L'editoriale di questa settimana firmato dal direttore Diego Andreatta è dedicato, questo è il titolo, all'acquaresima di Bose Sì, sappiamo, forse molti telespettatori hanno letto qualcosa, si sono informati su questa comunità di Bose che anche in Trentino ha molti estimatori, molte persone che si sono recate nelle stesse comunità fondate appunto dal fratello Enzo e fratello Enzo stesso è stato più volte in Trentino un ascoltato predicatore e c'è una situazione difficile che vive in questa comunità, il nostro direttore Diego Andreatta ne trae spunto per evidenziare comunque anche in questa crisi di crescita tra il problema della successione appunto del fondatore anche i segni comunque di speranza che ci sono, un atteggiamento che in una situazione che non è ancora risolta comunque fa già indicare dei segni di perdono reciproco e che possono essere un segnale anche in questa nostra quaresima che ci porta verso la Pasqua, una situazione che se vogliamo vorrei accostare a quella di un'altra comunità che conosciamo bene in Trentino, quella di Villa Sant'Ignazio dove anche un fondatore molto carismatico in questo caso ha invece accettato in obbedienza di lasciare appunto la casa da lui fondata, la realtà da lui fondata Villa Sant'Ignazio per ritirarsi da buongesuita nel suo riposo, insomma una situazione per certi versi simili ma anche è molto diversa. Abbiamo visto e stiamo vedendo lì accanto l'articolo sui migranti Migranti, provincia autonoma di Trento Matrigna è il titolo Protestano le realtà religiose impegnate nell'accoglienza Sì, la situazione è quella della residenza Fersina, un centro di accoglienza temporaneo per migranti che è gestito dalla Croce Rossa italiana, si era avviato un cammino d'intesa con la provincia con le realtà che si occupano dell'accoglienza dei migranti nel nostro territorio per arrivare a una progressiva chiusura di questo centro favorendo invece quei progetti di accoglienza diffusa che in passato hanno dimostrato tutta la loro validità, la serietà di questa impossibile integrazione che non significa certamente annullare le differenze reciproche ma invece avviare dei cammini di dialogo, di conoscenza prima di tutto di fronte invece a una proroga inaspettata per molte realtà appunto che si occupano dei migranti di questa residenza Fersina che rimarrà aperta per altri sei mesi alcune congregazioni religiose, alcuni ordini religiosi del territorio che accogliendo l'invito di Papa Francesco di un paio d'anni fa ad aprire le loro case per accogliere i migranti per quello che era possibile queste realtà hanno alzato la voce in maniera diciamo abbastanza inedita non possiamo tacere, abbiamo sottolineato nel titolo contestano queste scelte della provincia tra l'altro diciamo non assolutamente concordate ma che anzi vanno contro due delibere già assunte dalla provincia stessa vedremo poi come evolverà questa situazione è significativo comunque che è una bella pagina di chiesa mi viene da dire in cui non si vuole tacere si sottolineano anche le criticità e si richiama anche l'ente pubblico a un dialogo maggiore con chi poi si spende sul territorio Parlate poi del Dante di Vivaldelli con l'attualizzazione proprio del messaggio della Divina Commedia si è un'intervista al biblista Gregorio Vivaldelli che in passato prima del covid prima che la pandemia impedisse gli spettacoli dal vivo è stato protagonista di brillanti serate ha riempito il palarotari ha riempito palazzetti raccontando a modo suo teatralizzando il messaggio della Divina Commedia lo vediamo in questa bella immagine di Gianni Zotta con tutta la sua energia Gregorio Vivaldelli in questa intervista sottolinea appunto l'attualità anche in tempi così difficili come quelli che viviamo del messaggio di Dante Alighieri che ci invita ad accogliere la quotidianità per quello che è a viverla appunto accogliendola appunto come possiamo ma con uno sguardo comunque poi rivolto alle stelle che significa comunque a non lasciarsi abbattere ma avere sempre un messaggio di speranza in quell'amore che muove il cielo e le altre stelle non dimentichiamo che l'altro giorno è stata la giornata mondiale dell'acqua con il messaggio che chiaramente è stato lanciato al risparmio di acqua al risparmio soprattutto nei paesi dove acqua ce n'è nei paesi industrializzati ecco sì ci pare che queste giornate rischiano di diventare quasi un rituale abituale sembra così non sia stato in Trentino ne diamo conto a pagina 9 una pagina dove riprendiamo un dibattito che si è svolto online per iniziativa di Asfron con l'esperto Riccardo Petrella che parla appunto della necessità del non sprecare acqua ne parliamo anche nella pagina dell'agricoltura con Pietro Bertanza che presenta un interessante progetto europeo che vede coinvolte diverse realtà del territorio trentino consorzi irrigui, enti di ricerca e il mondo della frutticoltura trentina riguarda la possibilità di ridurre gli sprechi nella lotta alle gelate con appunto l'attuazione di sistemi che consentono di proteggere le piante con un velo di ghiaccio mantenendo la temperatura intorno allo zero quindi evitando le gelate ma risparmiando comunque acqua ci stiamo avvicinando a grandi passi alla Pasqua ricordiamo che domenica sarà appunto la domenica delle palme e anche questa Pasqua sarà una Pasqua del tutto particolare i riti appunto della Pasqua saranno del tutto particolari causa Covid Sì, ne diamo conto appunto riprendendo le disposizioni che ha dato la diocesi nulla di sostanzialmente molto nuovo si tratta di rispettare quelle indicazioni minime di distanziamento anche nelle chiese ci sarà però la necessità anche di un rientro nelle case quindi i riti abituali anche della notte della sera di Pasqua verranno svolti in orario tale da consentire poi rientro tutti nelle case prima del coprifuoco parliamo della Settimana Santa anche presentando l'ultimo libro del Custode di Terra Santa che è il Trentino fra Francesco Patton le sue meditazioni in un libro dal titolo più forte della morte è l'amore è una lettura sicuramente che saprà confortare molti ascoltatori molti telespettatori anche in questo periodo appunto di pandemia Augusto, questa settimana in Consiglio Provinciale chiaramente ha prodato il caso Savoy anche con molta forza diciamo così ecco ci puoi fare un commento su questo? abbiamo seguito mentre ieri chiudevamo in redazione il numero che oggi si trova in edicola e arriva agli abbonati e ci è sembrato un dibattito francamente piuttosto deludente sconfortante per alcuni aspetti in discussione prendendo le mosse dalla brutta vicenda del consigliere Savoy che ha espresso degli apprezzamenti decisamente pesanti rispetto a due ex colleghe di partito che sono passate come peraltro è legittimo poi che sia oggetto di possibile reprimenda naturalmente questo ci sta ma insomma sono passate a un altro partito a Fratelli d'Italia e questo ha scatenato l'ira del consigliere Cionfoli così appunto è il suo soprannome una vicenda però che doveva essere secondo noi dibattuta con toni diversi in Consiglio Provinciale è piaciuto vedere alcune consigliere della Lega e la stessa Assessora Segnana che in qualche modo cercavano di ridurre a una bagatella una vicenda che invece merita ben altro rilievo è assunta anche le pagine nazionali con una figura certo non degna del Trentino e in questo senso ci siamo spinti a esplicitare la richiesta di dimissione del consigliere Savoy dall'aula del Consiglio Provinciale che viene sicuramente disonorata dalla sua presenza Molto chiaro e molto incisivo Augusto devo dire ascoltami c'è questa settimana l'inserto questi miei fratelli giusto? Sì è l'inserto trimestrale della pastorale della salute della diocesi di Trento sottolineiamo in particolare alcune testimonianze dalla casa hospice Cimaverde dove appunto ci sono persone malati terminali che in questo periodo vivono una doppia sofferenza penso sia comunque una lettura che può sicuramente dare qualcosa e che lascia anche un senso comunque di speranza di cui penso abbiamo tutti più che mai bisogno